drove mi consente di modellare la sfera ora io ho selezionato drove vedete col mouse posso ruotare la sfera dai diversi punti di vista e con drove posso disegnare e modellare la sfera come se avessi una stecchetta per modellare drove vedete posso girare dai cinque punti di vista proprio come se stessi modellando torno su grab mi risistemo la sfera la dove voglio lavorare giro torno su drove modello come se avessi una stecchetta ecco qua modello i volumi adesso sto modellando contro guardate che succede inverto e drove invece che come stecchetta lavora come miretta vedete mi apre i volumi è sempre dove che posso usare come stecchetta ma se lo inverto come ho fatto lo posso utilizzare come miretta vedete quindi utilizzo sempre se tolgo inverto torno a utilizzarlo come stecchetta ok siamo tornati frontali a dro vanno associati i pennelli che hanno una durezza e una loro forza una larghezza e intensità modulare qua posso decidere che tipo di pennelli usare e con che tipo di forza andare ad incidere sul lavoro quindi proviamo a vederlo misura ecco qua mettiamo al massimo giusto per capire un pochino vedete guardate quanto posso gonfiare con questi pennelli al massimo mettiamoli ora al minimo vedete come al minimo l'effetto sia in realtà di piccole texture sul volume ma non finisce qua proviamo ad invertire al minimo al minimo sono piccole incisioni più che texture al massimo guardate con che forza vado ad incidere sui volumi torniamo alla misura media per recuperare un pochino il controllo sul lavoro al di là della dimostrazione togliamo il comando inverti e torniamo a modellare ecco qua quindi torniamo al punto di vista principale di questo volto fantastico Chris che qua è invece uno strumento per fare piccoli solchi eccole qua ora abbiamo una misura media vedete quasi come se stessi usando un bulino ecco a partire dal modellato un po' casuale che abbiamo fatto a scopo dimostrativo Chris con questi piccoli solchetti mi consente di recuperare la forma per quanto casuale per quanto modellata proprio come se stessimo modellando l'argilla e di lavorare su una possibile forma compiuta ecco qua mettiamo qua anche il muscolo proscelo è possibile ok questa superficie su io la lascerei controlliamolo un po' di lato ok riscentriamolo eccolo qua inflate che gonfia vediamo come ci consente di gonfiare i volumi ecco vedete lo gonfio seleziono il gonfio gonfio il labbro inferiore eccolo qua gonfio il labbro superiore devo gonfiare le palpebre e con inflate posso farlo quando soltanto muovendo la rotella del mouse posso andare avanti e indietro teniamocelo piccolino così lo controlliamo meglio eccolo qua adesso smooth smooth rifinire i solchi di ammortizzarli un pochino vedete guardate quanto addirittura li stiamo facendo quasi scomparire no? su questa formula di massimo anche qua ovviamente posso decidere la dimensione diamola al massimo qui addirittura mi ricopre tutto il volume vedete a un certo punto posso anche operare su tutto il volume riduciamo adesso invece al massimo la misura rivediamoci un attimo la cosa rimesso in asse mettiamo per comodità di lavoro delle misure nuovamente medie vedendo con inflate perché è invertito quindi ricordatevi che con il comando invert posso invertire le funzioni di certi strumenti quindi in questo momento sto usando inflate come se fosse una miretta vedete penetra proprio nella massa d'argilla recuperando invece la sua funzione originaria togliendo il tasto invert la modalità invert togliendo la modalità invert inflate gonfia vedete la cavità con lo stesso comando sempre con inflate si gonfia come se stessimo portando fuori l'argilla che prima abbiamo asportato come farlo sul naso vedete incredibile la definizione dell'argilla wireframe invece anche questo ci mostra tutti i volumi in maniera poligonale massa di volumi che possiamo ampliare o ridurre andiamoli da vicino eccoli qua vedete qua ce ne sono molti ecco qua rimpiccioliamo la figura che la vediamo ok ecco qua quindi questi sono i poligoni che possiamo togliere e rivedere la massa così come questi volumi questi poligoni che posso selezionare con wireframe li posso ridurre con reduce vedete questo momento li sto riducendo di dimensione che vuol dire amplificare la possibilità di definizione mentre invece sub divide all sub divide all che è qua un po' rimesso in sesto e ho ottenuto un boccioniano studio di volto anti grazioso un'idea di scultura futuristica giocando anche un po' sull'inversione dei comandi cosa che non vi ho detto wireframe vedete ci consente di studiare la sente di studiare quanti triangoli ci sono all'interno di questa massa plastica in questo momento ci sono lo vedete in questo numerino qua 84.106 triangoli posso farli crescere o decrescere attraverso il comando reduce riduci la selezione o aumenta la selezione facciamo una prova appunto qua cosa vi sto facendo vedere che più modello più cresce il numero dei triangoli più muovo materia e massa volumetrica quando i triangoli sono moltissimi come in questo caso e quindi c'è l'esigenza di compattare la forma posso ridurli reduce select vedete? si riducono penso sto mettendo a fuoco il lavoro mentre invece se ho bisogno di modellare estremamente il volume e aumenta ovviamente aumenta col comasso usciamo abbiamo detto che abbiamo un anti grazioso boccioniano potremmo in teoria anche continuarci a lavorare con drove e anche giocare con i pennelli per un lavoro di precisione pennello piccolo e con grande pazienza potrei mettermi a modellare invertendo quello che il modello in realtà ha sport dell'attrezzo con il quale andiamo a lavorare che vedete in questo momento l'ho messo al massimo ed incide ovviamente di più non vediamo un po' tutto concludiamolo torniamo su draw size misura dell'attrezzo piccolo ok crease m2 questa forma in movimento inflate ecco per un po' la massa centrale adesso per cercare un equilibrio e poi possiamo anche decidere e determinare il materiale vediamo un pochino che tipo di materiale possiamo usare per una forma così plasmata rapidamente vediamo questo serve eccolo qua è importante si può anche continuare a lavorare sul materiale scelto e il materiale in qualche modo valorizza il tipo di modellato che si è scelto quindi ricapitolando Sculptris è uno strumento possibile che aiuta a fare dei ragionamenti velocissimi su cosa può essere un linguaggio plastico a partire da una massa e un volume unico di partenza che nella fattispecie è la sfera che puntualmente ci compare all'inizio della nostra sezione di lavoro qualora si voglia interrompere il lavoro basta andare sul comando New Sphere e il lavoro ricomincia così come a quella prima sfera di partenza se ne può aggiungere un'altra Smooth è il comando che ci permette di modellare il volume di partenza Grab invece ci permette di muovere i volumi attraverso ovviamente l'impostazione della simmetria possiamo ridurre i poligoni e il caso è che siano quanto meno è possibile Smooth ci consente di ammorbidire il volume dopodichè possiamo anche scegliere la tipologia di materiale che meglio si presta alla forma sulla quale abbiamo lavorato il lavoro in questa modalità può poi essere salvato e lo si può riprendere per un'ulteriore fase o sezione di lavoro Crise è uno strumento che serve a collegare tra di loro i volumi e le masse lo stiamo vedendo ora i comandi sono molto pratici e molto immediati per cui più che attraverso un tutorial serve una pratica diretta il software è valido se miriamo a fare ragionare i nostri studenti su che cosa si possa fare con la modellazione plastica bianca in un 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 Grazie a tutti.